Ciao, sono Barbara Corradini, insegno recitazione in DSMT a Bologna. Io consiglierei innanzitutto di mostrarsi piuttosto determinato, di mostrare una certa grinta, soprattutto una certa decisione nei confronti del percorso professionale che intende intraprendere. È un percorso impegnativo, serio, importante, che richiede moltissima dedizione. E poi anche di mostrare una certa capacità di mettersi in gioco, di rispondere con vivacità, con prontezza anche ad eventuali richieste che gli insegnanti potrebbero fare in sede di audizione. Allora, il mio consiglio è di vestirsi in modo sobrio, neutro, con un abbigliamento che metta in risalto le linee del corpo, ma senza mascheramenti o eccessi che non servono a nulla. Inoltre, credo che sia anche molto importante attenersi il più possibile alle linee guida che noi indichiamo per la scelta del repertorio da portare in accademia. Vi aspettiamo in DSMT, un bocca al lupo!